Al posto della classica mensa aziendale, un servizio di ristorazione alla cart, con meno sprechi e menu adattabile alla dieta personale. Sono già decine le aziende che hanno aderito a Brio, il nuovo servizio delivery per le imprese, lanciato a luglio 2021 da Sodexo. Tra le prime aziende a sperimentarlo, Bonacina 1889, storico marchio del Made in Italy, che da quattro generazioni realizza mobili di design destinati per il 90% al mercato essero ed esposti tra l'altro al MoMA di New York e in altri musei internazionali. Elia Bonacina, amministratore delegato della società, spiega i motivi della scelta di quello che viene definito come il modello di un nuovo ristorante aziendale del futuro. Il servizio Brio è un servizio veramente super innovativo che mi ha colpito. La possibilità di prenotare con semplicità un pasto tramite un'applicazione sul proprio telefono in qualsiasi orario della giornata, avere un'offerta più vicina a un concetto di ristorazione invece che di una mensa tradizionale, ha veramente portato un'evoluzione importante in questo campo. Una soluzione che promette alle aziende risparmi significativi, meno sprechi e quindi meno inquinamento. Nessuno si aspettava di ricevere un servizio così alto, veramente equivalente come mangiare a un ristorante di buon livello. Tutti sono veramente rimasti piacevolmente sorpresi e anzi trovano pietanze che magari nella loro normale vita non avevano mai provato e quindi questo crea ancora più positività ed energia nel ambiente lavorativo. La nuova pausa pranzo coinvolge la Bonacina 1889 e una cinquantina di dipendenti che ne sottolineano gli aspetti positivi. Innanzitutto la qualità del servizio e la qualità del cibo mi consentono di pranzare quotidianamente con un menù che varia, un menù di qualità e che mi consente anche di non dover pensare la sera prima che cosa portare per pranzo in azienda. E c'è chi è particolarmente soddisfatto per la possibilità di scelta che viene offerta? Ottima, anche perché io sono perennemente a dieta quindi riesco a mantenere il mio regime alimentare con questo menù. Tra i vantaggi del food delivery personalizzato, dipendenti e dirigenti dell'azienda sottolineano la maggiore flessibilità oraria per la consumazione del pasto.